Vedete, questa è la muffa che vi ho fatto vedere poco fa, guardate di che stiamo parlando, stiamo parlando di un palazzo dell'Ather gigantesco, è un grattacielo, sono mi pare una quindicina di piani, immaginate quindi creare dei problemi di stabilità a un palazzo di questa natura, che cosa può comportare, se le fondamenta non sono più che stabili il rischio è veramente grande, non soltanto per il palazzo stesso ma per tutto il quartiere.